Come funzionano gli abbonamenti sul mio canale? Ve lo spiego in breve. Ho inserito due livelli di abbonamento sul mio canale, uno di sostegno e uno di contenuti. Partiamo col primo. A 99 centesimi al mese potete sostenere il mio canale, sostenere tutto quello che ho fatto finora gratuitamente e quindi aiutarmi a sviluppare il mio canale sempre di più. Il secondo livello è il livello contenuti. A 4,99 euro al mese verrà pubblicato un video a settimana con contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Quindi a 4,99 euro al mese ci saranno video con contenuti nuovi, tematiche nuove dedicate esclusivamente agli abbonati o approfondimenti dei temi che già tratto nel mio canale. Quindi come abbonarsi? Se avete un iPhone, dalla app non riuscite ad abbonarvi. Dovete andare su PC oppure sulla versione desktop del vostro iPhone e da lì, solo da lì, accanto al tastino iscriviti, trovate il tastino abbonati. Allora lì potrete poi cliccare sull'abbonamento desiderato. Invece mi risulta che per chi ha Android si possa già vedere e cliccare la funzione abbonati direttamente dalla app di YouTube. Quindi è semplicissimo, accanto al tastino iscriviti, trovate il tastino abbonati mi raccomando. Se avete iPhone non lo vedete nella app dovete andare su PC o sulla versione desktop. Quindi vi aspetto nella mia nuova sezione abbonamenti.